Torna allo sport su FanoTV. Tutto quello sport che ha i più diversi livelli, nelle più diverse modalità, ma sempre in fondo con lo stesso spirito, viene praticato in questa città e in questo territorio. Un piccolo grande mondo che proveremo ad esplorare, raccontandone protagonisti, storie, passione, impegno, attività, risultati e magari anche imprese. Avremo ovviamente uno sguardo privilegiato sull'attualità e su quelle realtà che più catturano l'interesse popolare, ma vorremmo offrire una ribalta a chi abitualmente fa fatica a conquistarsela. Succederà in sportissimo, in onda, tutti i martedì sera a partire dal 17 gennaio. Vi aspettiamo!